amici di calcio napoli 1926 buongiorno ed eccoci alla rassegna stampa di questo 17 settembre 2020 la notizia più importante della giornata è il pari saint germain che avanza un'offerta al napoli per calidu culibali ormai è ufficiale il club parigino vuole il senegalese l'offerta è di 52 milioni di euro più 7 di bonus al momento però aurelio de laurentis resta in silenzio aspetta forse spera che il manchester city rilanci con un'offerta indubbiamente più alta nel caso in cui però andasse via il numero 26 azzurro il napoli deve coprirsi per l'appunto deve difendersi in quella zona del campo e quindi inizia a sondare dei nuovi profili quello più caldo al momento è quello di senesi del feienurd il club olandese richiede 25 milioni di euro ma evidentemente la trattativa si può cercare di limare un po questo è quello che richiede il patron per arrivare intorno ai 20 milioni sensazioni positive rispetto a questo affare mentre per quanto riguarda un altro profilo sempre sondato dalla società parliamo di papassato oculus sarà trattato e preso solo ed esclusivamente nel caso in cui partisse nicola maximovic e tale affare sarà a parametro zero per quanto riguarda sempre il calcio mercato in uscita nome caldissimo quello di arcadius milic è sempre più lontano dal vesuvio ed è sempre più vicino al colosseo ormai la sua meta è chiaro che sia la roma promesse non mantenute quelle della juventus evidentemente il cambio di panchina ha stravolto totalmente i piani societari bianconeri e quindi il polacco è destinato alla capitale ieri a roma c'è arrivato il procuratore del polacco quest'oggi ci arriverà il polacco stesso andrà a vedere da vicino il contratto a comprendere il progetto societario che c'è dietro la sua figura ed evidentemente c'è fiducia da parte del club giallorosso in quanto all'interno del contratto è presente anche un bonus per il polacco nel caso in cui vincesse la scarpa d'oro dunque per adesso le notizie sono tutte di giornata queste sono le più importante l'appuntamento è sempre a domani con le nostre flash news buona giornata